False certificazioni per il pagamento di fornitori, sequestro operato dalla Guardia di Finanza. Gala della Lirica al Teatro dei Marsi, ricavato servirà per aiutare un bambino malato. Le donne d'Avezzano, il titolo del nuovo libro di Filippo Fabrizi. Sportello sulla sicurezza alimentare, rappresentato in un convegno a Celano. Cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. In primo piano la Cronac, finanzieri del nucleo di polizia tributaria di L'Aquila hanno deferito alla locale autorità giudiziaria, il rappresentante legale di una società affidataria di lavori di ricostruzione di un condominio gravemente danneggiato dal sisma del 2009, sito in L'Aquila. L'attività di servizio si inquadra in un più ampio contesto investigativo, che vede le fiamme gialle, coordinate dalla pool di magistrati che operano presso la locale procura della Repubblica, nell'ambito del progetto Crasi, impegnate già da tempo i miretti e certamenti, volti alla verifica dell'autenticità delle autocertificazioni di avvenuto pagamento dei subappaltatori fornitori, prodotte dagli affidatari dei lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma. Gli affidatari dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione degli edifici danneggiati, che omettono il pagamento dei propri fornitori di beni o servizi, oltre a non assumersi alcun rischio di impresa e trattenendo quindi per sé tutti gli utili, privano di preziose risorse finanziarie le imprese più piccole, determinandone sovente, se non il fallimento, quantomeno la sofferenza. In tale contesto è stato individuato il rappresentante legale della società Idil Aquilana, che attraverso due false autocertificazioni attestanti l'avvenuto pagamento dei due fornitori, otteneva indebitamente da parte del Comune dell'Aquila il pagamento di due saldi per un importo complessivo di oltre 500 mila euro. Ciò ha portato, come detto, al riferimento del responsabile per il reato di indebita percezione e di erogazioni a danno dello Stato e dal sequestro, nei suoi confronti, di una somma pari a circa 90 mila euro, corrispondente all'importo delle fatture non pagate ai fornitori. La squadra mobile di L'Aquila, a termine di una complessa ed articolatività investigativa, nei mesi scorsi identificato e deferito all'autorità giudiziaria, è stato di libertà una 33enne di Latina, poiché è ritenuto responsabile della rapina consumata nel mese di maggio scorso in danno all'Agenzia Monte dei Paschi di Siena di L'Aquila, ubicata in piazza Battaglione degli Alpini. In quella circostanza, il rapinatore, una volta all'interno dell'istituto di credito, minacciando i dipendenti con un taglierino, si era impossessato del denaro custodito all'interno di una cassa. La reazione di un dipendente fece sì che il rapinatore, sorpreso da tale condotta, abbandonasse a terra parte del denaro, poi recuperato dalla polizia intervenuta immediatamente dopo i fatti. Il personale della squadra mobile è risalito all'autore della rapina, partendo da piccole tracce lasciate dal rapinatore sul luogo del reato durante la fuga. Nella successiva perquisizione, effettuata presso l'abitazione della sua casa, furono rinvenuti anche gli indumenti utilizzati per compiere l'evento delittuoso. Nei giorni scorsi, l'autorità giudiziaria ha messo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, avvalorando il lavoro investigativo e contestando il reato di rapina al responsabile. Un escursionista marsicano era rimasto ferito ieri dopo essere scivolato per un centinaio di metri nelle gole di Celano. Da quanto si è saputo, l'uomo, abbastanza esperto, avrebbe perso l'apidio scivolando, come detto, per un centinaio di metri. Il protagonista della caduta è stato un escursionista di 32 anni, mentre stava effettuando un'escursione con altri cinque compagni nelle gole di Celano, come detto, lungo un percorso alpinistico molto impervio che conduce dalla cittadina marsicana fino a Ovindoli. A lanciare l'allarme al 118 è stato uno dei compagni che, allontanandosi dal luogo dell'incidente, ha camminato per un po' per riuscire a mettersi in contatto telefonico con i soccorritori. Una squadra medicalizzata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spelologico, grazie alle coordinate fornite, ha raggiunto gli escursionisti portando con sé una barella per un eventuale recupero a piedi. Ciò dal momento che nella zona era presente una fitta nebbia. Successivamente, quando si è un po' diradata, è stato possibile far intervenire un elicottero che ha provveduto al suo trasferimento nell'ospedale di L'Aquila. Pescara, ma dianera per la qualità della vita. Abbiamo più volte lanciato l'allarme, ma i nostri appelli sono sempre rimasti inascoltati. Ora i dati lo confermano. Pescara non è più una città sicura. La cosa grave è che molti dei nostri associati, demotivati e demoralizzati, stanno legalizzando le aziende fuori regione. Siamo ormai in una città fantasma. Strade del centro e parchi rifugio di disperati o invasi da venditori abusevi, vetrine devastate da writers, furti e spaccate di negozi ed attività commerciali. Questo è stato di cose, lo denunciano il presidente, di confertigianato Pescara e quello della categoria commercio, Giancarlo Di Blasio e Massimiliano Pisani, commentando la classifica sulla qualità della vita di Italia oggi e Università La Sapienza, che colloca quindi Pescara al 99esimo posto della graduatoria nazionale. La provincia scende addirittura alla 104esima posizione su 110 per quanto riguarda la criminalità e al 105esimo per il disagio sociale. Basta fare un giro lungo quello che rimane dell'assiatrizzato, dicono Di Blasio e Pisani, per vedere i capannoni vuoti è ancora peggio. Un bel giro in centro per vedere multinazionali che fanno solo vetrina, prodotti etnici senza alcun controllo, pseudo imprenditori che non seguono le regole. Vittime di questa situazione, secondo Confartigianato, non sono solo le aziende ma anche i cittadini. Idee proposte le abbiamo ben chiare e le abbiamo illustrate più volte, sottolineano i due presidenti. Per prima cosa la creazione immediata di una tax force da parte della Polizia Municipale, che affianchi le altre forze dell'ordine in una lotta capillare per combattere i fenomeni di vagabondaggio o di abuso da parte dei furbetti insieme ad un piano di abbattimento delle barriere architettoniche. In gioco concludono i presidenti di Confartigianato e Confartigianato Commercio Pescara, cioè la qualità della nostra vita e dei nostri figli. Sull'aumento dell'assistenza sociale e posti di polizia fissi nei quartieri a rischio, il Movimento 5 Stelle propone la propria ricetta per contenere la criminalità. Per Domenico Pettinari, consigliere regionali del Movimento 5 Stelle, non serve uno studio per capire che la città di Pescara è in emergenza criminalità. Non serve una classifica, non serve un sondaggio che non può mai essere completamente attendibile. Basta guardare la città, prosegue, e andare nei quartieri dove la criminalità trova la sua genesi, trasformandosi in una bomba sociale che esplode anche nei quartieri del centro. Più volte, prosegue, abbiamo messo l'amministrazione davanti alla realtà dei fatti, proponendo una serie di iniziative volte a contenere il fenomeno in una città in continua espansione. Pertanto, chi subbalza dalla sedia, leggendo qualche classifica, rispondiamo che il Movimento 5 Stelle non ha bisogno di nessun dato fornito da studi esterni. Vivendo il territorio, sappiamo ben di cosa si sta parlando ed è tanto tempo. Chi invece sembra sordo è il governo di regione, come anche quello di città, che nonostante le numerose segnalazioni continua nell'indifferenza ad amministrare il territorio come se nulla fosse. Vanno ampliati, spiega Pettinari, i servizi sociali per prevenire stati di disagio che poi sfociano in criminalità, maggiormente nei quartieri a rischio. Invece, siamo davanti ad amministratori che continuano in tagli trasversali senza pensare alle conseguenze che pagheranno anche i cittadini che non sono diretti fruitori del servizio. Torniamo nella Marsica. Una conferenza stampa è stata indetta dal Comune di Pescina insieme alla Diocesi de Marsi per il giorno 1 dicembre a partire dalle ore 11 presso la Sala Consigliare del Palazzo Municipale di Pescina. Nel corso della conferenza stampa a cui parteciperanno Monsignor Pietro Santoro, Vescovo de Marsi, il Sindaco della città di Pescina, Stefano Giulianella e i sacerdoti delle due parrocchie, Don Giovanni Venti e Don Michele Saltarelli, rappresentata la cerimonia religiosa che si terrà in data 4 dicembre a partire dalle ore 17.30 presso la Concattedrale de Marsi Santa Maria delle Grazie in Pescina. Nel corso delle celebrazioni la Chiesa aveva elevata dignità di Basilica minore o pontificia. Il titolo di Basilica assegnato alla Concattedrale de Marsi su richiesta del Vescovo Pietro Santoro è indirizzata dapprima alla Conferenza Episcopale Italiana e poi la conegregazione del culto divino e disciplina dei sacramenti viene riconosciuto dal Santo Padre allo scopo di rafforzare il vincolo che una singola Chiesa ha con il Vescovo di Roma anche in considerazione della sua importanza nel territorio. La Concattedrale di Santa Maria delle Grazie infatti questo dice i resti mortali di San Berardo Cardinale Vescovo della Diocesi de Marsi dal 1109 al 1130 mentre la città di Pescina ha dato in Italia diversi personaggi che nella storia hanno avuto un particolare rilievo nonché nei vasti campi della cultura. A conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco questo momento di preghiera d'incontro vuole accompagnare il riconoscimento ufficiale della Concattedrale di Pescina quale dimora del Signore al del cielo e della terra. Domani martedì 29 novembre alle ore 12 nella sala consigliare del Comune di Avezzano si terrà la conferenza stampa di presentazione del Gala della Lirica in programma il 4 dicembre alle ore 18 al Teatro dei Marsi ed organizzato dal Comitato per la Comunicazione Culturale e Città di Avezzano in collaborazione con la famiglia Bianchi e con il patrocinio morale dell'Unicef per l'Abruzzo. Il ricavato della serata sarà destinato ad una nobile iniziativa di solidarietà perché servirà a promuovere il progetto umanitario un piccolo grande marzo di nome franco un bambino di Villa Vallelonga che dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico nel New Jersey. Durante la conferenza stampa sarà proiettato un video registrato dall'attore Lino Guanciale testimonial dell'iniziativa. Sostenitori del progetto sono il Gal Terre Aquilane il comune di Avezzano di Villa Vallelonga di Collelongo e naturalmente l'attore Lino Guanciale. Un volume per proporre ai lettori le figure femminili di Avezzano che negli ultimi anni hanno dato maggior lustro alla città. L'idea è stata di Filippo Fabrizi giornalista e pubblicista e già autore di altre due pubblicazioni. Il titolo del libro è Le donne d'Avezzano 150 pagine con interviste e curiosità relative alle numerose signore che a vario titolo hanno contribuito a rendere importante il capoluogo della Marsica. La presentazione si è svolta nella sala consigliare del comune alla presenza degli assessori Alessandra Cerone e Fabrizio Amatilli. le interviste quindi ora sono del collega Plinio Olivotto. Vediamo il servizio. 60 anni di attività giornalistica nel corso della quale ha realizzato un po' di tutto. Servizi, interviste speciali incontrando personaggi di ogni genere e poi come a volte accade nella vita di un cronista scatta quella scintilla si accende quella luce particolare per cui il cronista diventa scrittore e decide di realizzare qualcosa di importante un libro. Filippo Fabrizi è uno di questi un nostro amico e collega ci permette sicuramente forse questo termine che ha dato alle stampe da poco la sua terza fatica e il titolo è tutto un programma si intitola appunto il suo ultimo libro Donne d'Avezzano siamo venuti a trovarlo per farci raccontare appunto questa sua ultima fatica innanzitutto la scintilla che ha fatto scoccare in te l'idea di buttare giù questa terza fatica quando si è verificata? Dunque intanto io non è che da scrittore sono diventato cronista sono rimasto cronista cronista delle vicende delle persone dei personaggi di Avezzano e della Marsica quando è scattata questa scintilla chiamiamola così che mi ha spinto a fare questo terzo libro quando ho fatto il secondo libro qualcuno mi ha rimproverato dicendomi che in quel libro non c'era nessuna donna che erano tutti uomini ah si? allora io adesso ne farò un altro con tutte donne ed ecco che è nato Donne d'Avezzano però ho visto che c'è anche qualche fotografia di illustri personaggi maschili in questo libro ma che hanno incrociato la vita di queste donne se ti riferisci per esempio al primo nominativo che è citato qui al primo personaggio cioè a Irma Bianchi beh Irma Bianchi ha una storia lunghissima che l'ha incontrata di gente maschi e femmine senti con un titolo così uno pensa magari anche al gossip no? perché sai parlare di donne e sfociare nel pettegolezzo non è che ci voglia granché bisogna essere abili a evitarlo ma sicuramente non è così e lo sappiamo ecco il personaggio che ti ha dato maggior da fare per la descrizione qual è stato se ce n'è uno in questo libro il personaggio che mi ha preoccupato di più è quello che ho messo in copertina nel senso che in copertina mi sono chiesto chi ci metto questa immagine che vedete non è di nessuno non è una fotografia non è una scultura non è un dipinto è solo una elaborazione al computer quindi può essere tutte e nessuna senti tu hai raccontato ecco in che modo le varie persone le varie donne a che cosa ti sei ispirato in particolare che cosa hai voluto mettere in risalto in ciascuna di loro allora si divide in due parti questo libro nel primo ci sono le interviste che ho fatto nella tua nella nostra emittente Antenna 2 e quindi ho riportato il testo di quegli incontri gli incontri a 2 che molti ancora ricordano nella seconda parte ho interviste più recenti che ho fatto direttamente e le persone le ho fatte parlare sulla base delle domande che io ho posto ho suggerito e ne è venuto fuori un racconto di vita qualche aneddoto che è inserito in questo libro qualcuno in particolare che secondo te può suscitare la curiosità dei lettori ti va di citarne qualcuno io spero che i lettori abbiano la curiosità di leggerlo tutto il libro e troveranno loro le curiosità a cui tu fai riferimento certamente non è un libro di gossip e questo perché io rispetto il mondo femminile non ho voluto fare un'incursione senza preoccupazioni è stata un'impresa sicuramente rischiosa però credo di essere malaccavata di solito si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna ecco la tua compagna ti ha ispirato ti ha dato qualche dritta quando si è trattato di descrivere magari in maniera particolare qualche qualche donna dunque mia moglie non ha nessuna colpa ha solo avuto lo spirito di sopportazione in questo mio dedicarmi agli incontri con altre donne ma solo e sempre dal punto di vista giornalistico e per raccontare le vicende di queste persone ma senza gossip per carità quanto tempo giornalmente ti ha portato via questa fatica? diciamo che per un anno sono stato impegnato a lavorarci su beh insomma una bella fatica senti Filippo quante copie ne hai stampate e dove è possibile reperirle? sono nelle librerie le copie di questo libro a partire da lunedì 28 novembre la presentazione avviene avvenuta il 26 novembre che è sabato da lunedì è in tutte le edicole di Avezzano allora questa è la tua terza fatica e sicuramente avrai ancora tempo per la quarta la quinta la sesta che cosa hai in cantiere? sicuramente in queste marce che tu hai citato la quarta la quinta la sesta non ingranerò la marcia indietro andrò avanti non so fino a quando mando avanti prossimo argomento magari ci anticipi qualcosa le coppie le coppie è un'idea ma quelle che continuano ad esistere o quelle che poi si scoppiano perché oggi va di moda quest'altra quest'altro modo di fare e allora il romanzo sarebbe lunghissimo torniamo dal capologo adriatico per parlare di sanità in occasione della giornata mondiale dell'AIDS prevista come ogni anno il primo dicembre dottor Giustino Parruti direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive della ASLA di Pescara evidenzierà gli importanti risultati ottenuti attraverso il progetto obiettivo diagnosi di HIV AIDS che ha visto l'ansla di Pescara capofila per la regione Abruzzo il progetto è nato risposta al progetto obiettivo diagnosi di HIV AIDS varato nel 2011 dal ministro della salute con la finalità di proporre un circuito diagnostico che permettesse di facilitare l'accesso al test HIV nel 2012 le saunità operative di malattie infettive della regione Abruzzo hanno presentato un progetto operativo in rete approvato dall'Agenzia Sanitaria regionale con la finalità di proporre un circuito diagnostico che permettesse di facilitare l'accesso al test HIV il progetto ha previsto le seguenti fase la predisposizione di siti web per attività di causaling con la possibilità di prenotare prelievi nelle sei sedi di malattie infettive la prenotazione diretta da parte dell'utente del test via web l'esecuzione contestuale sui campioni prelevati per il test HIV anche dello screening sperimentale per epatite B e epatite C e sifilide la centralizzazione poi della esecuzione del test del laboratorio analisi cliniche dell'ospedale di Pescara in quanto laboratorio di riferimento regionale progetto ha preso il via il primo febbraio del 2014 i risultati dei primi 15 mesi pubblicati nel mese di ottobre sulla rivista americana di settore IDS Passion's Care and STD confermano la migliore performance di programma di screening nella nostra regione europea negli ultimi dieci anni come riconosciuto in sede di pubblicazione La Confagricoltura L'Aquila al consorso di bonifica interno si gioca al tanto medio tanto peggio L'organizzazione di categorie in una nota fa presente che nonostante il presidente Schiavitti abbia fissato per il 15 di gennaio 2017 la data per le nuove elezioni dopo la sentenza del TAR che si è dichiarato incompetente sul ricorso presentato da un candidato escluso o dalle liste La Coldiretti ha chiesto alla regione di costringere il presidente a convocare un consiglio con all'ordine del giorno non la convocazione delle elezioni ma solo il punto relativo alla mozione di sfiducia al presidente mentre la convocazione delle elezioni atto già formalizzato dal presidente ma che deve essere ratificato dal consiglio dovrebbe essere fatto da un commissario ad acta E prima di concludere la pagina sportiva con il calcio serie D vittoria sofferta ma meritata per l'Avezzano che allo stadio di Marsi intervenendo invertendo la negativa tendenza contro le squadre sarde ha battuto per 2-0 il Lanusei i particolari nel nostro servizio curato dalla nostra redazione sportiva vediamo altri tre punti per l'Avezzano e anche il tabù relativo alle squadre sarde è stato finalmente sfatato dopo un primo tempo abbastanza noioso nel corso del quale i marsicani avevano fatto ben poco nella ripresa tabacco e soci si sono dati una svegliata mettendo a segno le reti che confermano comunque il buon momento iniziato dopo il successo sul rieti un minuto di raccoglimento prima della gara per ricordare un amico di tutti che non c'è più la scomparsa di Ugo Marziale il manutentore dello stadio dei marsi è stata sottolineata dall'applauso sincero di tutti i presenti Tortora deve fare la conta con quello che rimane tra squalifiche e infortuni e lancia fin dal primo minuto l'argentino Serrago in attacco l'inizio dei biancoverdi oggi in tenuta all'olandese è molto buono e al quinto Padovani penetra in aria e tira un difensore spinge corto e Sassarini prova il tap-in vincente ma anche stavolta sulla traiettoria si materializza un avversario che sventa la minaccia il terreno allentato non consente una manovra fluida e allora ci si prova con i calci piazzati come quello di Tabacco che al dodicesimo batte forte di sinistro ma senza inquadrare la porta poi la qualità del gioco scade e per vedere qualcos'altro di interessante bisogna aspettare altri 20 minuti quando si registra un destro di Ianni che Lewandowski para a terra ancora due giri di lancette e sul lancio di Tabacco Serrago potrebbe battezzare alla grande il suo esordio ma impatta male col sinistro e la sfera si perde mestamente a lato la nebbia cala ancora più fitta e Papini tenta la fortuna con una rovesciata dal limite buona però solo per lo spettacolo passiamo alla ripresa al quarto un cross di Sassarini dalla sinistra manda la palla verso Serrago che ci prova ma arriva con un attimo di ritardo replica ospite al nono quando Ahmed ruba palla a Besana avanza e tira ma anche il tentativo del sardo non sortisce nulla di concreto la gara procede senza sussulti e sembra non promettere nulla di buono per l'Avezzano ma poco più avanti Serrago si destreggia sulla destra e crossa in area col suo piede meno buono ad aspettare il pallone c'è Deramo che carica il destro e batte la Ferrara grazie anche alla deviazione di un avversario il Lanusei accusa il colpo e al 26esimo subisce il raddoppio bianco verdi che vanno via in contropiede penetrando in area dove c'è un tiro che il portiere Sardo smanaccia via ma non tanto da impedire che il veloce Bittai batta sul tempo il marcatore diretto e spinga la sfera in fondo al sacco 2 a 0 e discorso praticamente archiviato al 35esimo si registrano a fondo del sempre più convincente Deramo sul settore di sinistra con un assist all'indietro che però i compagni non riescono a capire poi l'avezzano tira un po' i remi in barca permettendo agli ospiti qualche sortita che però frutta loro solo qualche rimpianto Ahmed ci prova da distanza siderale ma Lewandowski che pure starà morendo di freddo con quella maglia a mezze maniche è ben piazzato e sventa in due tempi al 43esimo sugli sviluppi di un corner la conclusione porta la firma di Bonu che manda la palla scheggiare la traversa con una mezza girata passano tre minuti e tocca a Papini azionare il destro da 35 metri ma pure stavolta la porta è un po' più in là e Lewandowski controlla con lo sguardo il pallone che finisce a lato e per concludere vi mostriamo l'ultimo tentativo sardo con Cocco che la porta la inquadra ma a fare la guardia c'è il giovane polacco che blocca sicuro quattro minuti di recupero e poi tutti sotto la doccia calda oggi particolarmente gradita dopo un pomeriggio che ha consigliato i più a restarsene a casa prima di arrivare in sala stampa il presidente Gianni Paris allora altri tre punti la svolta probabilmente c'è stata anche se il primo tempo non è stato granché però insomma una vittoria che ci sta sì quattro risultati utili consecutivi la squadra sta crescendo e sta assumendo una giusta mentalità oggi abbiamo visto un primo tempo controllato e una ripresa dove è uscita l'avezzano calcio che vuole mister Tortora però anche stavolta pochissimi spettatori sugli spalti va bene faceva freddo nebbia tutto quello che vogliamo però troppa poca gente beh forse faceva freddo e quindi il freddo ha allontanato il pubblico dal De Marzi vabbè diciamo così c'è tanta ironia in questa dichiarazione allora fra tre o quattro giorni arriva dicembre si riapre il mercato con quali prospettive beh sicuramente in settimana conoscerete dei volti nuovi per per il mister per lo staff Stefano De Angi sta lavorando in queste ore faremo una riunione proprio tecnica di mercato dopo queste interviste giocatori dell'altro girone quello dell'anno scorso o di questo? beh ve lo dico in settimana Gianluca Ervatin ex giocatore del Parma l'abbiamo appena saputo tecnico dell'anno 6 una partita che nel primo tempo insomma stavate controllando bene poi che cosa è successo? guarda è una partita che non pensavo mai di perdere non 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 so neanche cosa dire ai ragazzi perché l'hanno affrontata bene non stavamo rischiando niente c'è stata una marcatura un po' blanda su quel fallo laterale che gli ha permesso quel cross e poi con questa girata carambola sulla schiena e via 1-0 per gli avversari è evidente che fuori casa ci abbiamo delle colpe ma non siamo neanche aiutati dalla fortuna vedi che noi prendiamo le traverse vedi che noi arriviamo vicino al gol ma non lo facciamo e credo che loro abbiano fatto due tiri nello specchio ora io non sono uno che si ricorda benissimo tutto della partita la devo riguardare però che croce mi ricordo i due gol e basta quindi non sarà un martedì dove io avrò molto da dire alla squadra quelli fortuni dopo 3-4 minuti il vostro del difensore che cosa ha cambiato ha influito? beh è uscito un centrale e ne è entrato un altro quindi come come preparazione della gara non è cambiato niente ho fiducia anche di quello che è entrato perché ha sempre giocato pure lui quindi taticamente non ha cambiato nulla semplicemente ho usato un cambio se vogliamo dirla così però questo l'anno 6 è che continua a perdere fuori casa è una costante io sono allenatore e voi magari immaginate che io abbia la risposta però io non lo so perché perché non so cosa ci manchi fuori casa per fare qualche punto perché l'avete vista la gara non è una squadra che teme a giocare o che ha timore forse sono più bravi gli altri in casa abituato al sole della Calabria ma qui Caropino la nebbia il freddo comandano allora altri tre punti insomma la svolta c'è stata o no però primo tempo lasciamolo dire non da Avezzano come ci si aspettava sì in effetti è più dura del solito queste partite purtroppo le soffiamo terribilmente perché secondo me quando ci aggrediscono in casa dobbiamo fare la partita abbiamo qualche difficoltà in più sinceramente bisogna ammetterlo però io credo che il trend negativo anche a livello psicologico oggi sia veramente finito con oggi con queste ultime partite perché soffre terribilmente le parti interne di questa squadra perché non è abituata ad andare sotto pressione e saggredita stranamente fuori casa con squadre anche molto quotate riusciamo a fare sempre la partita però è una caratteristica che dobbiamo cercare di correggere e di ripetere insomma sotto qualsiasi altro aspetto che qualora ci fosse insomma senti in attacco pare che ci manchi proprio un uomo di peso una punta come eri tu ai tuoi tempi il presidente Pari si ha detto che in settimana qualcosa dovrebbe accadere sì sicuramente qualcosa accadrà il presidente poi lo va dicendo da un pezzo bisogna dargli atto che ha avuto perfettamente ragione sinceramente non voglio tornare indietro comunque però ha avuto ragione in effetti un giocatore con determinate caratteristiche che ci possa garantire non tanto ma un numero giusto di gol ma che abbia caratteristiche anche del saper tenere la pala un po' come Luca diciamo di Genova che è un grande giocatore ma con più dinamismo perché Luca comunque rimane un grande giocatore quindi adesso vedremo stiamo individuando insieme al presidente a Stefano De Angelis il giocatore per le per con le caratteristiche giuste ma non soltanto tecniche anche umane perché dobbiamo inserire un giocatore importante in uno spogliatoio secondo me importante quindi dobbiamo fare molta attenzione però io credo che la squadra comunque stia facendo la sua parte tutti quelli che stanno giocando con qualche difficoltà però insomma siamo in una posizione più che discreta in questo momento ed è bello adesso incomincia veramente un campionato importante secondo me avete già individuato l'elemento che può fare a casa vostra? Abbiamo dei nomi li stiamo valutando ci incontreremo anche più tardi anche martedì con il presidente e con Stefano non vogliamo sbagliare non è una questione di soldi perché poi andare a fare o di rimborsi come è giusto che si dica andare a fare movimenti anche che possono nuocere sia alle casse societarie sia anche a livello di umano e psicologico allo spogliatoio non lo vogliamo fare vogliamo prendere un giocatore giusto che abbia voglia di venire qui a lottare di insomma di stare in mezzo a tanti giovani di stare in una società con un allenatore con un direttore con tutto uno staff credo di professionisti punto e vedremo penso che comunque qualcosa di buono salterà fuori l'esordio di Sarrago ottimo è difficile per un giocatore straniero venire a integrarsi una mentalità con un ritmo di partita che non ha un giocatore importante che ci farà fare secondo me anche un buon salto di qualità oggi non fa testo ha avuto anche una palla importante ma io che ho giocato davanti lo so come funziona sicuramente guardo la prestazione guardo l'approccio guardo la voglia che un giocatore ha è un giocatore che vuole stare con noi un giocatore che sicuramente ci darà grandi soddisfazioni il servizio di sport termina il giornale prima dei saluti come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete vedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni dunque grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci per averci seguito